Io sono Giuseppe Parisi, sono il nuovo presidente della SIPEM, la società italiana di pedagogia medica, una società che da molti anni si occupa di riuscire a portare la cultura della medical education in Italia nei vari contesti medici di cura e di assistenza. Le prospettive future sono tutto e nulla perché siamo di fronte a delle rivoluzioni, noi sappiamo che i cambiamenti sociali stanno producendo delle rivoluzioni anche in seno alle professioni sanitarie e alla medicina e quindi si mette in dubbio, si costringe a cambiare non solo e non tanto gli atti del medico, delle professioni sanitarie ma proprio l'essere stesso, l'identità stessa delle professioni, la formazione che noi possiamo aspettare. Sicuramente deve essere una formazione che deve essere totalmente diversa anche perché tra l'altro noi abbiamo strumenti formativi che sono nuovi e che possono essere utilizzati. Quindi parliamo sicuramente della simulazione che oggi ha delle possibilità enormi ma parliamo anche semplicemente dell'utilizzo di tecniche didattiche attive che in Italia sono anche poco utilizzate e adesso stanno comunque introducendo, non dimentichiamo tecniche anche sempre utilizzate come il PBL che comunque sta, ora è utilizzato molto di più e è più diffuso in tutte le aree. Dobbiamo avere una particolare attenzione a quella che è l'identità del professionista e su questo medical humanities, la medicina narrativa, la riflessione sulla propria pratica, la riflessione su se stessi, esiste una tradizione che dal gruppo BANIT degli anni 50 arriva fino ad oggi. Tutte queste tecniche sono importantissime, diventano vitali, non solo un semplice machillage di una professione tecnica, ma è il trasformare delle professioni tecniche in professioni che devono andare verso la filosofia, verso il pensiero.